Musique e Commenda è la manifestazione patrocinata dal Comune e dalla Provincia di Berimisi svolta in occasione della chiusura di numerosi progetti del comprensivo Commenda che hanno avuto come temi il teatro, la danza e la musica. La manifestazione ha convolto circa 300 ragazzi trovando anche l'attenzione dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricicolazione di Cerca Educativa, che ha inserito questo progetto come una delle buone pratiche a livello nazionale. Nel 2022 la naturale evoluzione della Musique è stata in questo caso aggiungere la musica digitale e quindi volgere uno sguardo al passato della storia salentina ma con gli occhi del presente e del futuro. Io sono convinta che quelle che sono poi le idee ambiziose sicuramente possono regalare magari maggiori soddisfazioni sempre nella convinzione di voler dare ai ragazzi tutte le opportunità possibili perché loro possano davvero avere quelle ali per volare. Infatti io amo dire loro, ragazzi, vola solo chi osa farlo. È un vero e proprio viaggio. Tutti i nostri ragazzi che hanno tra l'altro realizzato interamente lo spettacolo condurranno gli spettatori in questo viaggio lungo le leggende salentine facendo riscoprire suoni e profumi tipici del nostro Salento. Abbiamo voluto aggiungere degli elementi di innovazione, la musica digitale per cui i nostri ragazzi produrranno attraverso i tablet tutte le ambientazioni sonore che ci faranno rivivere appunto la nostra terra. Grazie per la visione!